Sala del Consiglio Comunale di Monterchi a Palazzo Massi con il Sindaco Alfredo Romanelli dopo la vicenda legata alla decisione del Consiglio di Stato sulla collocazione della Madonna del Parto. Che cosa succede, Sindaco? Ormai i gradi di giudizio sono esauriti, quindi gli effetti dell'ordinanza fatta dal Ministero dei Beni Culturali che lega la Madonna del Parto al contesto di Santa Maria in momentana è di fatto esecutivo. Questo non vuol dire che immediatamente o in tempi brevissimi questo abbia una ripercussione concreta. Oggi la Madonna del Parto rimarrà nella sede attuale anche perché noi crediamo che niente può essere fatto senza un accordo con il Comune di Monterchi che ne è proprietario sia della Madonna del Parto che della Chiesa di Santa Maria momentana. Quindi ci sono anche altri elementi giuridici che possono essere messi in campo. Io credo che la politica deve assumersi certe responsabilità, non solo su questo tema ma anche su molti altri. Ormai la burocrazia che oggi vogliamo tanto condannare però sempre di più e più forte sembra che un funzionario del Ministero abbia più potere di un ministro o di qualsiasi altra personalità. Il popolo si manifesta attraverso i politici, coloro che sono eletti, non chi ha vinto un concorso.